bella ragazzi bentornati sul mio canale sono raymond e prima di iniziare questo gameplay voglio ringraziare raffo che mi ha messo a disposizione appunto questo gioco escape dead island e credo che vabbè dal nome dead island è un gioco di sopravvivenza contro orde di zombie quindi credo che sia sulla riga dell'originale dead island sarà uno spin off un qualcosa del genere andiamo a vedere ok l'audio è interessante andiamo a vedere iniziamo nuova partita non taglio un braccio è molto cartoon due giorni prima dell'epidemia di banoni tutto molto cartoon ok ah ok allora opzioni comandi spostati indietro non so assolutamente cosa dobbiamo fare ok alto obiettivo attuale ok ottimo quindi qui no la covaccia ti evita di essere visto mamma raga mamma raga sostanzialmente sostanzialmente ragazzi una sorta di dead island per chi lo ha visto altrimenti mi invito ad andarlo a vedere il contagiato lo dobbiamo ammazzare ovviamente una sorta di dead island vivosto in chiave di borderland ragazzi non so se avete visto qualche mio gameplay di borderlands sembra sostanzialmente ragazzi una sorta di Dead Island per chi lo ha visto altrimenti invito ad andarlo a vedere rivisto in chiave di Borderlands ragazzi non so se avete visto qualche mio gameplay di Borderlands mi sembra effettivamente questo ok ok come oh 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 ottimo perfetto e abbiamo staccato la testa però ora conviene abbassarci wow è molto rapido non so la salute come si vede però credo che siano queste macchie di sangue che vediamo sullo schermo ragazzi allora ora se io apro no chiuditi posta chiuditi posta no ma sei cretino no ma sei cretino no no ma sei cretino tu stova Ah, ok Va bene Ottimo Cioè, spuccano dappertutto Ok Quindi essenzialmente Conviene evitare la corrente Perché abbiamo capito che possiamo prendere Ottimo Recuperiamo la stamina Perfetto Guarda, io ci andrei pure qua Però veramente ci andrei molto, molto Molto easy Ma quanti? Con che cattiveria? Ho sbagliato nel tempo A faccio Vai a farti Sì, ti ho sbagliato Però cazzarola Questa è più resistente E degli altri Va bene Vai a farti Questa è Questo Dorme Allora 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 Mamma mia Si sentono No 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 Allora 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 Ma Grazie a tutti. Grazie a tutti. Incredibile. Incredibile. Tosto, tosto. Cioè, ma non è che il fatto che sia tosto. È che la stamina finisce di merda proprio. Perfetto. Perchè troia. Perfetto. Ottimo. Sto iniziando a capire qualcosa. Sto iniziando a capire qualcosa, ragazzi. Fin quando non si illumina il punto interrogativo, loro, il punto esclamativo, loro non sanno della nostra esistenza. Cosa? Cosa? Perfetto. Pistola silenzialata. Ok. Perfetto. Mamma mia. Abbiamo trovate un sacco. Perfetto. 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 Ah, ok. Ci sono delle scale lì. Guardate come hanno, ragazzi, riprodotto anche gli effetti. E' fantastico. Ditemi se vi piace, ovviamente. che se vi piace, ci faccio un pensiero per portarlo. Allora, se è solo quello. Ottimo. Come ha fatto a... a schermarmi, Willian? Ok. Ok. Ma per nitta. Ma per nitta. l'isla dei morti. Tu puoi chiamarmi Colin. 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 Quale nome di super-villain è quello? Se io fossi tu, mi preoccupavo di andare fuori. Mamma mia. Questo era una sorta di tutorial, insomma, raga. ok. Ok. Ok Ragazzi Perfetto Io credo che Come primo gameplay Va bene qui Va bene qui Bene così Se vi è piaciuto lasciate tanti tanti like Passate sulla mia pagina Facebook E alla prossima Ho il vostro Remo Credo che dopo di questo registrerò Assetto Corsa Bella Grazie a tutti